Cotino, il partigiano Gastone Cotino, accogliamolo con un grande applauso, interviene Gastone Cotino contro questa inesima manifestazione di repressione nei confronti del ruotimento contro la guerra. Grazie Gastone, grazie per questa testimonianza. I compagni, dobbiamo tenere duro, qui stanno mettendo in discussione principi elementari democratici, ci vogliono distruggere, ma non ci distruggerete mai, perché noi siamo sia contro la guerra, sia per la pace. Vogliamo un mondo diverso, un mondo in cui anche il primo maggio sia di tutti, il primo maggio di tutti i compagni e di tutte le compagnie e di tutti i lavoratori. Io ho quasi cent'anni, ma vi devo dire che nella mia lunga vita un episodio così vergoglioso come quello di oggi, raramente l'ho visto e per questo mi ribello con tutte le mie forze. Ne ho mai poche, ma ve ne ho scaldati. Io vi invito, è la mia generazione che è battuta per la libertà, anche voi tenete duro, libertà, eguaglianza, solidarietà, no alla guerra, no alle guerre, no alle armi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.